La misura è importante perché recupera un po' un concetto, secondo me, classico della filosofia, cioè che identificava la saggezza con la cura del sé e quindi anche i limiti e quindi non in qualche modo strafare, usiamo un termine, non pretendere di riconoscere il proprio limite e quindi in quella misura però esprime di meglio di quel che si è fondamentalmente. E nella relazione, c'è questo importante giustamente perché questa è una cosa sulla quale anche qui rifletto da tanto tempo, insomma, personalmente, insomma, poi qui ho scritto qualche cosa. Questo fa pugni con, come dire, la dimensione, per esempio, del consumo. Perché noi nella dimensione del consumo, che è il consumo di oggetti, no, fondamentalmente in linea di principio non troviamo limiti. Cioè, il consumo di oggetti può essere indefinito. Io, per esempio, c'è l'esempio del collezionismo, no? Cioè, io posso collezionare, no, oggetti, cose, o anche collezionare persone. In che senso? Cioè, avere, no, amicizie, come appunto, può cadere sul social network, per cui aumento il numero delle amicizie, posso arrivare all'infinito, oppure, come dire, immaginiamo la dimensione del danaro, insomma, cioè, non è un limite, insomma, è qualcosa che si può incrementare all'infinito. Invece le relazioni, che sono quelle che danno un senso alla nostra esistenza, come si diceva all'inizio, e quelle non possono avere un, cioè, è vero, noi possiamo, come dicevamo prima, in modo occasionale, anche incontrare l'altro in ogni momento, però le relazioni, e anche in quel caso lì, hanno comunque un limite. Cioè, non è possibile immaginare un tessuto di relazioni umane, pur essendo noi dentro un tessuto infinito, perché prima di noi, dopo di noi, eccetera, però, sicuramente, ognuno di noi, poi, può costruire una dimensione significativa, partendo da un limite, e quel limite è possibile trovarlo anche qui. C'è questa differenza fondamentale, no? C'è la necessità di una misura se tu vuoi costruire un senso, perché siamo costruttori, poi, alla fine, di questo senso. E, invece, l'idea è che questo limite non ci sia se andiamo nella dimensione, appunto, del consumo. Perché a quel punto, beh, lo si può, teoricamente, consumare all'infinito, poi neanche se si può consumare all'infinito, però, in un principio, si immagina di poter, no? Andare avanti sempre, insomma, per cui non c'è un limite, no? Quindi, e questa, secondo me, è una cosa in montante, perché ha a che fare proprio con una diversa prospettiva, no? un'altra prospettiva diversa.